Lavorerà anche il sabato e la domenica la ditta incaricata di completare la riqualificazione della strada cuore del quartiere Carrassi di Bari, via Montegrappa, che a sentire l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso sarà pronta entro dieci giorni. Si sta procedendo con la fresatura dell'asfalto che durerà un paio di giorni per poi passare sabato e domenica alla rialocazione in quota di tombini e scivoli per diversamente abili e successivamente ad inizio settimana si procederà alla prostatura del nuovo asfalto. Queste le parole dell'assessore che questa mattina insieme ad alcuni tecnici del comune al presidente del secondo municipio Andrea D'Ammacco si è recato sul posto per controllare lo stato dei luoghi. Tante le richieste dei residenti che hanno preso a cuore la riqualificazione di via Montegrappa, una strada molto sfruttata e degradata dove si svolgeva il mercato giornaliero di frutta e verdura, poi spostato nella nuova struttura coperta di Santa Scolastica. Si va da una nuova locazione dei bidoni nell'amio che l'assessore Galasso ha promesso di studiare insieme ai responsabili dell'azienda municipalizzata della nettezza urbana alla sostituzione di cordoli in marmo e delle mattonelle dei marciapiedi che saranno sostituite con mattoni di pregio. L'importo dei lavori che iniziate a luglio avrebbero dovuto concludersi a settembre è di 150.000 euro. Nello stesso appalto rientrano gli interventi già ultimati di costruzione dei marciapiedi della chiesa di Santa Fara, della riqualificazione di via Carnia e di via Fanelli, tratto in corrispondenza di via Iecini. Grazie. Grazie.